Ecco la sua nuova Candy Alize! Con lei basta panni stesi! Ragazzi, arriva! Facciamo festa! Nuova Candy Alize! Basta stare stesi! Ah, nuova Candy Alize! Lava e con un potente getto d'aria calda asciuga il bucato! Tutto a 639.000 lire! Usiamo pronti! Lavati e asciutti! Candy sa come si fa! Mai più fanni stesi! Grazie, Candy! Vi presento la medicina del 2000. La tua salute è la prima enciclopedia medica che dà grande spazio alla medicina naturale, alle terapie a base di erbe, all'omeopatia, all'agopuntura. Accanto alle voci della medicina ufficiale, per la prima volta trovi le risposte della medicina naturale. Tienila in casa! È la medicina del 2000. La tua salute è in edicola il primo fascicolo con il regalo il secondo, la copertina del primo volume e l'utilissimo manuale di pronto soccorso. La tua salute è enciclopedia medica. Armando Curcio, editore. Bambini, ho trovato come farvi regalare un sacco di automobilini anche dopo Natale. Lasciate fare a me. Cari genitori, a gennaio pensate anche un po' a voi. Regalatevi una bella automobilonna, una bella Fiat nuova. Fino al 31 gennaio avete milioni di risparmi con Sava e Savalisi. E in più per i diesel, due anni di Superbolo compresi nel prezzo. E coi milioni che risparmiate. Pensate anche un po' ai bambini. Un'automobilina? Gennaio, fino al 31. Come Fiat, non c'è nessuno. Se tuo figlio tossisce durante la notte, prova Flu Prim. Magari sciolto nel latte caldo. Flu Prim. Agisce contro la tosse. Flu Prim Roche. Gocce e sciroppo contro la tosse, diluibile nelle bevande calde. Solo in farmacia. Al fascino dei tuoi 40 anni, Bayer ha dedicato il trattamento completo Quenti Forti. Quenti Forti cancella le piccole rughe e dà tono ed elasticità alla tua pelle. Quenti Forti. Trattamento completo per la pelle dei 40 anni. Quanto fascino dà sapersi più bella. Per fare l'amore hai bisogno di amare. Amare. Guida pratica per una felice vita sessuale. Amare. Ti prende per mano e ti porta a capire tutto sul sesso. Tutto ciò che può migliorare l'intesa sessuale. Contesti scritti da esperti sessuologi e oltre 2000 illustrazioni. Amare. Guida pratica per una felice vita sessuale. In edicola a fascicoli settimanali. Editore Sonzogno. Uno, due. Uno, due. Hai visto cara che maschiaccio c'è in cucina? Ah sì? Allora provati con Cookie. Ma cos'è? Alluminio o acciaio? È alluminio. Con 50 lire ne salvi 10.000. È nuovo Cookie doppia forza. Nuovo Cookie doppia forza. E poi non senti più gli odori. Cookie conserva salame, formaggi, pane e... E io conservo anche te. Ciao. Caro! Guarda con sottilette, fila e fondi. Gusto delicato che si fa crema. Fino al cuore del tuo piatto.